Perché non ero capace? No, non ero capace. Mi ero capace. Ah, non ho capito. Quando durante il giorno? No, no, è venuto lui il signor Capetano. Ah, quando ha tagliato e caduto? Sì, perché io ho detto, no, non lo taglio io perché ho paura che passi. Invece anche io mi scatto. Per questo dovevi pagare. Ho pagato poco perché per tagliare questo qui è un po' più divertente. Ok. Ok.